Oroscopo dal 16 al 31 agosto. Tanti, ma tanti soldi in tasca, ma solo per questi segni zodiacali. Ciao a tutti e grazie per essere tornati nel canale. Scriviti al canale per restare sempre aggiornato. Alla fine di agosto alcuni segni si ritroveranno con tanti, ma tanti soldi in tasca e, nella maggior parte dei casi, molto dipenderà dalla fortuna. Agosto è spesso un mese complicato per le finanze, dal momento che tendiamo a spendere molto più di quello che guadagniamo nello stesso periodo. Quindi è molto difficile concludere in positivo il bilancio finanziario di questo periodo. Nonostante questo però, alcuni segni andranno in controtendenza e si ritroveranno tanti soldi in tasca, più di quelli che si sarebbero aspettati o che prevedevano di ottenere. Bisogna solo cogliere al volo tutte le opportunità, perché saranno tante e soprattutto fortunatissime. Ecco i segni zodiacali più fortunati di questo fine mese di agosto. Acquario. I mesi appena trascorsi sono stati molto complessi per voi, dal momento che avete dovuto affrontare spese più ingenti del previsto. Fortunatamente quel periodo è ormai alle spalle e i soldi ricominceranno ad affluire nelle vostre tasche, permettendovi di concludere un mese di agosto con un bilancio nettamente impositivo. Il consiglio delle stelle è di non lasciarsi abbattere dalla stanchezza a continuare a mantenere un approccio sano e propositivo con il mondo, perché verrete ricambiati con fortuna e buone opportunità, soprattutto lavorative. Leone. Negli scorsi mesi avete avuto l'impressione che la vita avesse deciso di sprecare il vostro talento relegandovi in mansioni e lavori indegni di voi, nei quali non potevate assolutamente esprimervi al meglio. Quel periodo sta finalmente volgendo al termine, ed era ora. Quindi nelle prossime settimane le stelle metteranno davanti a voi inaspettate opportunità lavorative e anche la possibilità di guadagnare molti più soldi del previsto. Anche se bisognerà assolutamente tenere sotto controllo le spese, perché continuerete ad avere le mani un po' bucate. Vergine. Quando si parla di soldi sapete sicuramente il fatto vostro e non fate mai conto sulla fortuna. Preferite affidarvi al duro lavoro e alla disciplina. Si tratta sicuramente di un buon approccio quando si tratta di argomenti seri come l'aspetto finanziario della vita. Ma di tanto in tanto bisogna accogliere la buona fortuna quando decide di presentarsi nella nostra vita. In questi ultimi giorni di agosto avrete proprio l'opportunità di concludere progetti interessanti, che porteranno certamente nelle vostre tasche grosse somme di denaro. Se avete l'abitudine di investire è il momento perfetto per farlo. Gli investimenti su cui punterete potrebbero portarvi molti soldi sul breve periodo. Per una volta non pensate al futuro remoto e gioite del presente. Scriviti al canale per restare sempre aggiornato.